Il Festival del Cambiamento oggi pone attenzione all'intelligenza artificiale e alla grande digitalizzazione. Ma qual è il ruolo della persona, in particolare per BAT Italia? Greta Uttieri. La persona è al centro di tutti i nostri grandi investimenti. Le persone sono il fulcro di BAT, lo sono sia per la nostra sede di Roma, sia per il nostro nuovo centro qui a Trieste. Lavoriamo sulle persone in prima battuta, cercando persone da inserire all'interno della nostra organizzazione. Lo stiamo facendo a Trieste, siamo più di 100 dipendenti in questo momento. Lo facciamo nella formazione, quindi spendiamo ore, ma lasciatemi dire giorni, per la formazione delle nostre persone. E lo facciamo anche essendo un'azienda multinazionale, grazie alle nostre consociate che sono anche al di fuori dell'Italia. Lo facciamo in termini di welfare, aiutiamo le nostre persone, supportiamo le nostre persone con dei percorsi ben chiari, che vadano dall'aiuto alle famiglie, come ad esempio gli asili nido, ai contributi per i nuovi arrivati, ma anche aiutando qualsiasi generazione, da quelli più giovani a quelli più grandi. Grazie mille aiutom pericolini. Grazie.